Savanna Bird kit per la barba, questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi quest'oggi. Il kit per la barba arriva all'interno di una scatola di cartone alloggiato su delle striscioline di cartone e si compone di un foglietto illustrativo in lingua inglese che mostra come poter modellare la barba e il pizzetto utilizzando il pettine in dotazione. Un pettine di legno marrone rossiccio robusto con misure di 11,7 cm x 11,7 cm con uno spessore di 1,5 cm aventi 24 denti distribuiti lungo 7,7 cm aventi uno spazio gli uni con gli altri di 2 mm. Sulla parte opposta a quella dei denti è presente la parte curva perfettamente levigata che servirà a modellare la barba in corrispondenza della mandibula o del collo. Sul pettine è inciso inoltre il nome dell'azienda. Infine è presente la spazzola di legno chiaro laccato con il nome dell'azienda in nero disegnato e setoli di cinghiali della lunghezza di 1,8 cm che non tendono a staccarsi facilmente nonostante si vada a tirarle e la spazzola si può dire che consente di spazzolare al meglio la propria barba.